buongiorno amici buongiorno amiche oggi facciamo un video su questa console portatile di retro gaming prima ve la faccio vedere ecco più o meno le misure sono queste quelle di un palmo di una mano assomiglia un po a un vecchio game boy qui ci sono i tasti del volume dietro vedete ci sono i tasti quattro tasti la batteria rimovibile sopra c'è il tasto power sotto c'è quello il jack audio per la sd micro sd e la usb type c per caricarlo adesso lo accendo vi faccio vedere il boot che abbastanza rapido e vi anticipo che io ho ha eliminato il software originale ho messo onion che è un custom firmware molto più performante di quello che c'è stock dentro la confezione ho trovato anche un vetro temperato se lo volete applicare e un adattatore per inserire la micro sd questo e sarà molto utile vi spiegherò perché e le istruzioni che sono sotto ma c'è scritto poco poco nulla tornando a noi vedete qua dice un attimo le caratteristiche ma l'interessante è qua andiamo ad accenderlo vediamo il boot quanto ci mette questa è la rom io ho messo la l'ultima disponibile ecco qua vedete c'è un menu preferiti poi c'è console le applicazioni settings basta non c'è altro nei preferiti vedete io ho messo i giochi che che io prediligo e che dopo vi farò vedere console c'è di tutto di più vedete amica arcade quella sarebbe rimame atari guardate c'è c'è di tutto di tutto di più poi qui c'è la psx super nintendo io ho messo un paio di giochi adesso vi faccio vedere anche le applicazioni molto importante perché oltre a cose inutili come questo c'è ad esempio la possibilità di guardate music player c'è l'ota l'aggiornamento dei firmware via ota cosa che nel software originale non c'è quindi vedete questa è una cosa molto molto utile quindi io vi consiglio assolutamente di mettere onion prima salvate tutto il contenuto della sd che trovate nel nella console vi metterò in descrizione la guida per mettere onion dopodiché dopodiché adesso vi faccio vedere come gira guardate che spettacolo ad esempio mettiamo prima un gioco mame vedete è partito subito è possibile anche settare il display tenendo premuto questo e questo insieme vediamo se ci riesco vedete potete settare il display anche a tutto a tutto schermo per per giocarci meglio l'audio c'è vedete inserendo i soldi virtuali iniziate a giocare adesso abbassiamo un attimo l'audio usciamo anche per uscire potete ottenere premuto questo oppure io esco di solito l'audio premuto questo e questo vedete andate sul menu retro arc a questo punto andate su close content e spegnete retro arc probabilmente ci sarà anche un metodo più rapido io adesso uso questo poi vi faccio vedere un gioco invece del super nintendo vediamo un po' che è questo qua questo qua pensate che questo gioco sulla raspberry anzi no su un emulatore wii non mi funzionava invece qui stranamente mi è partito vedete guardate partito subito senza bug grafici e si va adesso senza vedere tutta l'intro per uscire come vi dicevo io faccio questo più questo però magari c'è un metodo più più veloce che non lo so se lo trovate scrivetemelo nei nei commenti adesso senza addentrarci nei giochi che tanto li conoscete le console ve le ho fatte vedere sono quasi tutte quelle del retro gaming possibili le applicazioni abbiamo guardato i settaggi vedete c'è la luminosità io l'ho sentata a nove decimi poi sono collegata la mia wifi la lingua ho messo l'italiano anche se per esempio nel software originale l'italiano non c'era invece qui nella one nella onion c'è la sospensione infodispositivo ve lo faccio vedere questo è il numero modello attenzione quando fate modding attenzione che questo è corrisponde a lui questo codice corrisponde a lui quando fate modding fate attenzione il seriale va bene non lo scuro me ne frega niente la scheda sd è da 6 da 6 giga questo è il sito originale dove in caso potete scaricare il software originale ma onion lo scaricate altrove vi metterò in descrizione il link vedete la memoria 128 mega allora l'hardware performante avete visto come sono partiti i giochi per super nintendo immediatamente questo non è scontato assolutamente è una scheggia questa questa console portatile è veramente una scheggia allora diciamo che voi volete aggiungere dei giochi alla console perché vedete io ne ho messi pochi fondamentalmente su arcade che è quello più io praticamente ho messo tutti quelli che mi funzionano per esempio questo che non mi funziona non l'ho messo sui preferiti se adesso lo premo non funziona ho notato che tra il software originale e onion onion funzionano più giochi ma comunque ce ne sono certi che non funzionano allora voi che cosa fate togliete la sd attraverso l'adattatore che qui la collegate al pc andate nella cartella rom andate nella cartella arcade e inserite tutti i giochi imame zippati in quella cartella arcade a quel punto vi appariranno qua attenzione che dopo che inserite qua la sd con i nuovi giochi dovete dovete premere questo tasto e fare a giornalista fatelo perché se non lo fate non vi vedrà i nuovi giochi che avete inserito chiaro quindi nuovi giochi nella sd qui dovete fare a giornalista premendo select se non lo fate non ve li vedrà quindi nuovi giochi li mettete nella sd nella cartella rom nella cartella arcade arcade se sono mame nella cartella fc famicon se sono il super nintendo e il super nintendo mi pare che c'è la sigla sfc sarebbe super famicon poi comunque le sigle le trovate nel sito onion su che vi metterò in descrizione quindi a ogni cartella corrisponde una console e ve lo indicherò e ve lo indicherò qui allora quindi ecco adesso diciamo che questa è una console dove io ho già messo il castor firmware dove io ho già messo le rom che funzionano però ci sono anche per esempio il gioco bubble bubble a me i primi tentativi non mi ha funzionato io ho scaricato vari tipi di zip e di rom finché non ho trovato quella che mi ha funzionato perfettamente quindi dovete fare dei tentativi vedete è partito subito è veloce l'audio va bene fluido però vi ripeto me ne sono capitati certi che non funzionava e certi ad esempio che andava a scatti dovete trovare la rom mame giusta quindi possiamo anche andare un attimo di conclusioni allora i pro di questa console sono l'hardware è molto performante perché come vedete i giochi girano veloci sia che mettete onion sia che non lo mettete comunque l'hardware è performante il fatto che ci sia una comunità di castor firmware e soprattutto onion vi permette di avere più funzionalità abbiamo visto iota e in generale anche una maggiore compatibilità con i giochi il case è solido non è anche i tasti hanno un buon feedback non è chip e soprattutto avete visto c'è la possibilità di utilizzare il wifi ad esempio abbiamo detto per per scaricare iota c'è anche la funzione di multiplayer ma io non l'ho non l'ho usata c'ha però anche dei contro questa console io ve li dico perché sono una persona onesta lo schermo non è oled e non è niente di che non è non è molto luminoso e comunque è piccolo quindi se uno è un po' vecchietto come me non è che ci vede granché quindi se avete vent'anni venticinque vi andrà bene ma secondo me se cominciate ad avere più di 35 anni vi serve una console con uno schermo più più grande non c'è il bluetooth quindi se ad esempio volete ascoltare l'audio sulle cuffie bluetooth non lo potete fare e non c'è l'hdmi per collegarlo alla televisione quindi diciamo che se siete giovani un po' smanettoni questa qualità prezzo non ha rivali se invece come me siete un po' vecchietti oppure siete un po' boomer quindi non avete voglia di fare modding sinceramente il software originale non è non è il massimo funziona ma non è il massimo io comunque vi metterò in descrizione sia il link per l'acquisto e la guida fatta bene per installare onion os che non è difficile quindi ecco mi raccomando quando fate modding salvate prima il contenuto della sd perché magari se fate casino vi può tornare utile io per adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video spero di retro gaming che mi piace sul mio canale su questo canale cinadils anzi canali di pasqui che ringrazio per l'ospitalità troverete anche una recensione due recensioni di pandora box sempre per chi ama il retro gaming quindi andate da cercare ciao